carissimi amici Vabbers rieccomi qua con voi oggi per una recensione di un nuovo atomizzatore che mi è arrivato da circa una quindicina di giorni lo sto provando veramente l'ho provato per usato per tutti questi 15 giorni mi sono fatto già un'idea avete capito già dal titolo che andiamo a parlare di lui Kaifun 4 clone stiamo parlando del clone vi anticipo in primis che tutti i miei paragoni sono paragoni fatti con il Kaifun Lite Plus V2 clone non faccio paragoni con l'originale perché sia del Kaifun V4 che del Lite Plus perché non li ho mai avuti quindi parlo solo ed esclusivamente di cloni e quindi le mie opinioni si riferiscono solo ed esclusivamente ai cloni niente allora cosa dire Kaifun V4 bellissimo sistema da diciamo che svo emesso si è superato perché ha fatto ha studiato un sistema veramente veramente eccellente e so che ci sta sicuramente una grande lavorazione dietro un grande progetto perché è molto complesso come Atom e quindi io penso che l'originale col costo che ha sui 150 euro sia un costo comunque giustificato perché veramente ci sarà stato una grossa un grosso impegno dietro quindi è un prezzo che io ritengo giusto per quanto riguarda l'originale magari meno giusto rispetto ad altri ad altri che possono essere i genesis e quant'altro comunque sia il clone il prezzo del clone posso dire che è giusto non lo so francamente è bassissimo perché questo qua l'ho presi sul svapo web l'ho presi lo comprai lo pagai all'incirca intorno a 24 euro qualcosa del genere quindi un prezzo a dir poco onesto e comunque andiamo a vedere che cosa vi arriva a casa nel momento in cui ordinate questo clone del Kaifun dove ecco allora vi arriva in questa simpatica confezione andiamo a vedere all'interno ecco qua vi arriva il Kaifun completamente montato più due tank in modo tale da poterlo configurare secondo i nostri gusti allora io adesso lo vedete già montato è tutto perché non vado a farvi una recensione per come rigenerare quant'altro quindi semplicemente vi parlo del Kaifun in sé qui lo vedete completamente montato in questo momento vedete che è montato con il vetro altrimenti vi arriva già montato con il tank in acciaio con la scritta svoemesto lo faccio vedere vediamo se si mette a fuoco ogni tanto guardo il computer ci fate caso non mette a fuoco comunque c'è la scritta svoemesto molto bello poi invece ci sta anche questo tank qua che è in plastica sicuramente e dove si può notare che all'interno ci sta una bustina dove ci sta una molla una mollettina all'interno che è una mollettina di ricambio che serve poi vi faccio vedere per il Kaifun vi faccio vedere dove va montata quindi ci sta questa mollettina con questo tank qua completamente trasparente si va a sostituire che cosa si vanno a sostituire tre parti del Kaifun che sono le parti che compongono poi il tank si va a sostituire il discorso del tank basso con il tank questo in Pirex e il tank nella parte finale cioè quella in alto infatti vedete diventa anche un pochettino più corto quando si va a montare questo tank qua e naturalmente se voi andate a notare sulla particolarità del Kaifun è che parte con un certo diametro e poi diventa un pochettino più grande a me piace molto di più così invece con questo tank diventa comunque tutto con la stessa dimensione con questo tank qua mentre rimane uguale con la parte centrale in acciaio avrà sempre questa forma l'unica differenza è che non riusciamo poi giustamente a vedere il liquido che c'è all'interno io ho voluto lasciare questo tank qua proprio per questo motivo per riuscire a capire quanto liquido io ho ancora all'interno del tank poi la particolarità sono le lavorazioni fatte bene le filettature perfette non mi hanno non mi hanno dato problemi assolutissimamente e di nessun genere nemmeno di rumori e quant'altro e poi ci stanno queste lavorazioni simpatiche qua ci sta il logo di svoemesto che a quanto pare è inciso ed è fatto anche bene ottimo poi andiamo a vedere un pochettino nel dettaglio quelle che sono le misure andiamo a misurare un pochettino quant'è il carico allora misurandolo da tip vediamo se riesco a inquadrarvi ok vi faccio vedere meglio allora andando a misurare da tip dal vertice fino alla base non vado a comprendere il discorso del pin 510 perché quello la è una filettatura che va all'interno del corpo batteria quindi io non la considero e fino alla base abbiamo 7 millimetri 7 centimetri 4 millimetri quindi 7,4 abbiamo preciso preciso 7,4 in come lunghezza se poi noi andiamo pagare a paragonare con l'itaca si equivalgono pochettino un pelino pelino proprio più alto il discorso del v4 del caipul ma un proprio di un pelino pochissimo proprio di poco è un pochettino più alto il v4 comunque devo dire che un atomizzatore abbastanza compatto abbastanza resistente abbastanza pesante e si si va a capire che effettivamente un è un atomizzatore abbastanza solido e funziona egregiamente si alimenta molto bene andiamo in primis prima di parlarvi proprio del funzionamento del dell'atomo vi faccio capire un pochettino nel dettaglio come funziona il discorso del dell'aria e del della regolazione del liquido allora particolarità molto interessante del caifun è che noi andando ad agire sul corpo resistenza possiamo togliere con il tank comunque pieno di liquido possiamo togliere il discorso un attimo che aggiusto di nuovo possiamo togliere dal tank il discorso del corpo resistenza e andare ad agire sulla resistenza senza svuotare il tank quindi noi col tank carico tranquillamente possiamo andare a magari a cambiare il cotone o quant'altro e qua si ha la possibilità di capire come funziona il discorso un attimo c'è del liquido giustamente si va a capire come funziona il discorso della regolazione sia del liquido che dell'aria e ve lo faccio capire in dettaglio allora per quanto riguarda la regolazione del liquido se voi ora andate a vedere vedete questa base qua un attimo che adesso noi la filettatura che vediamo è questa piccola ghiera sono un tutt'uno sono attaccate ok mentre lo spazio che poi c'è tra questa ghiera e la parte dove c'è il corpo resistenza c'è questo spazio noi se andiamo a ruotare tenendo fermo la ghiera dove ci stanno i fori dell'aria andando a ruotare la parte bassa dove c'è il pin centrale cosa succede succede che ecco qua si va ad alzare vedete che adesso è distante questa base dalla filettatura prima invece erano un tutt'uno si va a creare questo spazio perché questa ghiera quasi è alzata alzandosi questa ghiera non fa altro che andare a chiudere questi fori impedendo al liquido di raggiungere quella che è la resistenza quindi abbiamo questa regolazione del liquido da tutto chiuso con le varie fasi intermedie fino a tutto aperto continuiamo ad aprire a chiudere diciamo tra virgolette il liquido cosa succede che noi andiamo a smontare questa parte qua vedete dove all'interno troviamo la molla che prima vi ho fatto vedere che c'è una molla sostitutiva all'interno del kit che di arriva a casa togliamo questa molla e qua troviamo che cosa vediamo se riesce a mettere al fuoco qui 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 si vede un po' sfocato ma si vede che qui c'è una vite e questa vite qua non è altro che la vite che va a regolare quella che è l'aria io in questo momento l'ho regolata che mi va al pari del cilindretto dove è posta la vite in questo modo io mi trovo benissimo con questo tipo di regolazione dell'aria nota particolare del Kaifun V4 è che una volta settata l'aria in quel punto se vi piace in quel modo non la spostate più francamente io sono 15 giorni che l'ho settata in questo modo mi è piaciuto in questo modo il tipo di ariazione e l'ho lasciata in questo modo non si è mai spostata mi sono trovato benissimo andiamo a risistemare la molla e andiamo ad avvitare rimettiamo a posto il tutto ok vado ad avvitare di nuovo ok ora cosa faccio una volta sistemata tutta la resistenza e quant'altro noi andiamo a rimettere a posto il discorso del liquido se noi dobbiamo fare il refill in questo caso noi magari dobbiamo riempire il tank ora lo andiamo a fare insieme io che cosa faccio blocco il discorso dove ci sta la ghiera con i fori dell'aria vado a svitare praticamente quello che è la parte dove c'è il pin 510 una volta che sento che fa forza è arrivato abbattuto in questo momento io ci ho praticamente il liquido chiuso non passa che faccio allora vado a svitare la parte superiore con il liquido giustamente chiuso prendo il mio liquido e vado a fare il refill una volta fatto il refill vado a ripiudere vado giù blocco di nuovo la ghiera dove ci stanno i fori dell'aria e vado ad aprire di nuovo il liquido ok aperto di nuovo il liquido giustamente cominciano a verificarsi delle bollicine significa che il liquido sta facendo il suo percorso e sta andando a irrorare la resistenza naturalmente il refill fatelo sempre con il liquido chiuso fatto questo io qua ho una resistenza di 1,08 quindi 1,1 la spingo a 13 watt adesso vi faccio vedere come va va abbastanza bene si alimenta bene allora punti di forza di questo anzi difetti di questo clone allora difetti che possono essere chiamati difetti su un clone che costa 24 euro non ce ne sono perché un clone che ha questo prezzo se hai il difetto della riga sul sul corpo esterno e hai il difetto un pochettino sulla filettatura lo posso nemmeno chiamare difetto per 24 euro comunque sia ci sono alcune cose che non è che non mi sono piaciute ci stanno magari il difettuccio della riga sul sul corpo esterno ma sono delle righe che uno deve andarle proprio a guardare sotto la luce altrimenti non si notano per quanto riguarda le filettature sono tutte buone io non ho trovato nessuna difficoltà nel montaggio smontaggio dell'atomizzatore e non ho sentito rumori strani cicolie o quant'altro nell'avvitare e svitare le varie parti quindi non mi posso lamentare a livello di come è stato fatto sicuramente è un clone ben riuscito per quanto riguarda il funzionamento il Kaifun V4 ha la particolarità di avere un'alimentazione eccellente e lo riscontriamo nell'originale e non so precisamente come funziona l'originale però io mi baso su questo e questo qua devo dire che ha un'alimentazione straordinaria perché in 15 giorni che io ho svuotato vari tank non sono mai andato in secca e non ho mai allagato ho svapato con varie tipologie di resistenza da 1,5 a 0,8 0,7 ohm e si alimentava benissimo anche a vattaggi molto più alti quindi non ho riscontrato nessun tipo di problema a livello di alimentazione a livello di svapo un svapo come ho detto più grasso sicuramente l'aroma è una spanna più sopra rispetto al Kaifun Light Plus V2 sempre parlando del clone perché io ho il clone è una spanna sopra a livello di aroma a livello di hit si equivalgono tranne per il fatto che magari il Kaifun Light Plus graffia un po' di più mentre questo è un hit un pochettino più dolce e niente cosa dire più come atomizzatore per il costo che ha secondo me vale la pena fare un giro di giostra con questo atomizzatore perché rende bene non ho riscontrato nessun tipo di perdita da nessuno di questi fori mai 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 trovato il tank svuotato o perdite o il pin della batteria bagnato assolutamente non posso dire che è il contrario quindi va benissimo cosa dire più fumosità fumosità l'abbiamo visto io adesso lo mando un pochettino più alto lo porto a 14 watt una resistenza da 1.1 e vi faccio vedere come va non va in check possiamo tirare tirare non andrà mai in check e non si allaga quindi veramente ottimo niente ragazzi questo qua è il kaifun clone v4 da tobeco ottimo atomizzatore lo consiglio sì assolutamente e si può trovare negli shop italiani a me è capitato un clone che è fantastico non so se tutti i cloni sono uguali o se qualcuno magari è difettoso questo non ve lo so dire però io posso dire che va benissimo già che ci sono vi dico che sto usando da più di un mese la club urmini club urmini che io sentivo dire che era pericolosa si riscaldava e quant'altro io vado in subom questa club urmini si comporta benissimo faccio questa piccola parentesi perché adesso ho montato il il kaifun su questa batteria qua e ve lo vi volevo aggiungere questa chicca quindi la club ur io l'ho comprata anche questa su svapo web mi trovo benissimo ho fatto vari settaggi vari e andando in subom temperature alte e quant'altro e la batteria legge benissimo ho montato all'interno una efest 35 amber di scarica la 18650 2500 milliamper dovrebbe essere si 2500 milliamper e non posso non posso lamentarmi proprio anche della club urmini è un sistema che va benissimo e quindi questo è il quarto ragazzi scusate se mi sono ripreso mezzo mezzo viso ogni tanto comunque se volete iscrivetevi al mio canale sicuramente ci saranno altre recensioni la prossima credo di farla sul sub tank mini della cancer e ci rivedremo senz'altro qua di nuovo insieme per una prossima recensione alla prossima buon swap a tutti naturalmente per la prossima